perché settimana prossima si riaprono i lavori in Consiglio regionale e dunque andiamo a sentire quelle che saranno le prossime tappe, i prossimi appuntamenti nell'agenda del Pirellone. Lo facciamo con il consigliere leghista Fabio Rolfi che ci spiega un'interessante iniziativa in materia di pet therapy. Consigliere Rolfi, lei è tra i firmatari insieme al Vicepresidente Cecchetti di un progetto di legge che chiede di introdurre la pet therapy nelle strutture sanitarie lombarde. Per quale motivo avete fatto questa richiesta? Perché si tratta di un'attività che è già diffusissima e già praticata in tante realtà dagli ospedali ai centri di uvono integrati, alle case di cura, alle case di riposo anche con anziani, con bambini, con malati di ogni tipologia. Con importanti risultati apprezzabili, sia per quanto riguarda gli studi comportamentali sia per quanto riguarda le patologie di alternatura. Si tratta ora di sistemizzare nell'attività lombarda questa pratica ormai diffusa e apprezzata attraverso anche percorsi di accreditamento, riconoscimento, qualificazione anche per distinguere chi svolge correttamente l'attività e chi no. e quindi un percorso formativo per quelle coppie uomo-animale che intendono appunto intraprendere un percorso di, anche professionale se vogliamo, di pet therapy. Ricordiamo che è una terapia che si avvale dell'utilizzo dei cavalli, viene già utilizzata per la cura di determinati, diciamo, disagi. E voi per quale tipo di patologia o disagio vorreste introdurla? Innanzitutto si può, c'è pet therapy anche con un'altra tipologia di animali, ad esempio i cani, che è altrettanto diffusa. La progetto di legge distingue tra due tipologie di attività, peraltro è la lettura scientifica di conoscerle, l'attività appunto di assistenza e l'attività invece l'abilitativa. Quella assistenza per favorire lo sviluppo comportamentale in figure, pensiamo ad esempio ai bambini con alcune disabilità o disturbi comportamentali o caratteriali, dove l'interazione con l'animale può consentire di migliorare le capacità comportamentali e caratteriali sviluppando alcune particolarità. E poi quella riabilitativa, perché invece deve affrontare un percorso riabilitativo che magari è determinato che è uno step psicologico, dove insomma un certo tipo di terapia con l'animale guidato, diciamo, da un operatore accreditato e riconosciuto, questa è la valenza direi importante della legge, possa consentire di migliorare in tempi più rapidi la propria situazione. Potrebbe essere anche un albo di questi professionisti? Saranno delle commissioni scientifiche composte anche da personale zoofilo, da esperti del settore che aiuteranno le zone ad accreditare le persone, sarà un albo dell'attività e delle coppie che svolgono appunto per terapia, associazioni o altro e soprattutto la legge prevede anche l'impegno che giunta del giornale dovrà poi decretare in termini attuativi del libero accesso alle strutture di cura e di ricovero per gli animali, per quanto riguarda appunto le persone che sono decenti, un modo per estendere i benefici positivi e anche di sollievo che il vedere il proprio animale da compagnia per chi è decente da tanto tempo può dare.